marcello creti le energie irradiate marcello creti legge la dichiarazione di scetticismo e la più lampante dimostrazione della propria ignoranza effettiva l'evoluto non è mai scettico ma solo desideroso di scavare sino a conoscere la radice di quello che ancora non si sa spiegare per cui lo scetticismo è patrimonio esclusivo dell'ignorante in quanto il sapiente più sa e più sa quanto ancora vi è da sapere per cui esso di nulla dubita ma tutto memorizza cataloga studia e cerca per eliminazione di focalizzare inoltre non giudica mai poiché sa quanto ancora deve imparare per arrivare al suo fine unico l'onniscienza è chiaro che chi è scettico lo è o perché non sa o perché con la propria limitata cultura e intelligenza non riesce nemmeno a ipotizzare la realtà solo per questo e non può che trincerarsi dietro quella dimensione di carenza manifesta che gli spera giustificatrice della propria ignoranza all'occhio di quelle persone di cui gradisce l'apprezzamento l'evoluto e conscio del suo limitatissimo sapere a confronto dell'onniscienza per cui non solo accetta l'inspiegabile ma addirittura lo cerca in quanto è solo tramite la scoperta dell'inspiegabile che può arricchire la sua sapienza ed evoluzione ulteriormente il mediocre l'ignorante e l'ofano viceversa sono convinti che il loro misero bagaglio di cultura sia sufficiente a dargli il diritto di giudicare misurare apprezzare constatare soppesare tutto quello che la loro ignoranza gli impedisce di vedere e di capire ingiusta nel momento in cui essi si rendessero conto di non essere nemmeno in facoltà di poter constatare ingiusta le dimensioni che gli si presentano durante il loro arco di vita da quel momento e solo da quel momento avrebbe inizio la loro tendenza all'evoluzione effettiva la certezza è una vetta che va guadagnata con molta fatica enorme sapere e senza tempo limitato né scetticismi ed anche quando di qualcosa si è certi mai va chiusa alla porta all'imponderato per concludere legge essere scettici e dichiararsi ignoranti ritenersi scettico e dichiararsi ofano l'ofano è il giocatore che non avendo carte è costretto a bleffare legge vi è un baratro di cui non sono visibili nemmeno i bordi tra chissà e chi crede di sapere continua